ciao a tutti amici del capricorno benvenuti e bentornati io sono ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi metafisica spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale bene mostrami capricorno ok grazie seconda metà di dicembre abbiamo la carta della forza amici del capricorno la forza io la sento sempre una carta molto collegata al terzo chakra al potere personale all'espansione alla forza di volontà anche la forza morale in realtà è per quello che comunque parla anche di di quarto chakra di generosità di apertura devo vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche è facile quindi che non risuoni tutto se non risuona se proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio vi consiglio di ascoltare l'ascendente il segno lunare oppure venere per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida la trovate sotto nella descrizione del video è sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi lo vedete anche scritto qui e trovate il link al video al corso del corso di tarocchi di gennaio 2024 e il link al video per le previsioni del 2024 della playlist ok ragazzi cominciamo subito con un cavaliere di spade un 10 di bastoni 9 di spade 8 di penta 9 di pentacoli scusate 9 di bastoni quindi abbiamo 39 in fila 5 di bastoni e regina di coppe allora ragazzi parliamo con questo cavaliere di spade a vi ricordo che queste sono letture sugli affetti in generale quindi può vibrare come una stesa sulla famiglia piuttosto che sulle relazioni di amicizia piuttosto che a livello di coppia cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà allora questo cavaliere di spade ragazzi può rappresentare una persona che era vicino a voi o una situazione anche ma essendo una figura è facile che sia una persona c'è come una sorta di allontanamento anche con questo 10 di bastoni vi ricordo che un 10 è una carta di chiusura è una carta di qualcuno che restituisce le responsabilità al mittente come se ci fosse qualcuno che ha cercato in qualche modo di sottrarsi delle responsabilità però ora insomma e ora che ognuno si prenda le proprie abbiamo anche questo nove di spade è interessante perché avete spade nove di spade nove di pentacoli nove di bastoni come se fosse un periodo di prove il nove di spade è una carta che mi parla di qualche pensiero in realtà è un pensiero o più pensieri legati a situazioni del passato ma ho come l'idea che qui sia un po come un ho paura di pentirmi perché già successo una volta e quindi non voglio che questa cosa succeda di nuovo fondamentalmente devo vedere carta per carta ragazzi non vedere il cavaliere di spade così riesco a dirvi cose più specifiche allora qui partiamo con una forza al contrario un 2 di coppa un diavolo allora per molte persone può risuonare come una situazione di tipo romantico perché abbiamo questo 2 di coppe ma è anche una situazione dalla quale probabilmente non c'era il coraggio e la forza di uscire a causa di questa tossicità di cui ci parla il diavolo vi dirò se io come l'idea che uno dei due qui sia scappato o che semplicemente ad un certo punto si dica no bon basta quello non è non è una mia responsabilità non è colpa mia sei tu che ti devi fare carico delle tue cose andiamo vederlo 10 di bastoni ruota della fortuna e re di spade infatti un po come dire taglio le dinamiche di comportamento che si sono avverate fino ad adesso prendo a quattro mani il mio coraggio e taglio gli schemi di comportamento per cambiare il karma ripeto 10 di bastoni una di quelle carte dove siete voi a restituire agli altri le proprie responsabilità cioè se potete fare un giochetto quando vi sentite in colpa per qualcosa chiedetevi sostituite la parola colpa con responsabilità cioè chi è responsabile per questa cosa per sapete questo vi aiuta quando ci sono le lotte quando cercano di incastrarvi quando cercano di darvi responsabilità che non sono vostre o colpe che non sono vostre qui si tratta di rompere lo schema andiamo a vedere 9 di spade asso di denari e imperatrice al contrario c'è paura ad avere questo nuovo inizio c'è paura di non essere abbastanza autosufficienti e come se non si credesse abbastanza in se stessi ragazzi però guardate avete anche un un re di spade quindi ho come la sensazione che una persona potrebbe arrivare in aiuto potrebbe aiutarvi diciamo a guidarvi o diversamente se fossero energie è quella che dovete sviluppare voi cioè è un po come se doveste fare dei conti dei calcoli mettervi proprio a tavolino con carta e penna e dire in questa occasione è successo questo di chi è la colpa della vita punto non ci posso fare niente ok tagliamo comunque con le tossicità e il senso di inadeguatezza c'è comunque diciamo la volontà di un nuovo inizio o comunque il processo di cambio e siamo lì siamo in una fase di iniziazione qui ai ragazzi perché abbiamo un 10 abbiamo un 10 anche qui 39 un asso fino adesso adesso andiamo avanti vediamo il 9 di pentacoli sette di spade e regina di coppa interessante perché la regina di coppa ce l'avete già qui ed è anche lei girata testa in giù ragazzi c'è qualche questione legata al denaro qui è vi dico potrebbe essere una questione di eredità perché abbiamo sia la ruota della fortuna che il 9 di pentacoli e c'è il sette di spade che è una carta di forte avidità o come la sensazione che potrebbe essere una situazione di eredità che vi state portando dietro alla quale vi state un po aggrappando c'è qualcuno insieme a voi che potrebbe essere un fratello in questo caso con la quale c'è difficoltà c'è con una persona un fratello una sorella intendo una parentela parallela c'è una persona in questo senso che potrebbe non volersi prendere delle responsabilità inerenti a questa eredità per esempio o magari siete voi fatemelo sapere nei commenti come vi risuona perché sapete che le energie possono anche risuonare a specchio quindi quelle che sembrano che io magari dico come vostri sono di un'altra persona e viceversa come vedere 9 di bastoni giustizia ragazzi e due di bastoni allora devo dire che avere la giustizia mi alleggerisce un po il cuore nel senso che se queste è vero che ci sono questioni di eredità a questione tra fratelli questioni economiche soprattutto se dovete chiedere un prestito e non siete sicuri di poterlo restituire vi dico qui le carte vi dicono proprio di tutelarvi ok quindi so prima della fine dell'anno allora potrebbero arrivare dei contratti o degli sblocchi burocratici con questa giustizia potrebbero arrivare dei finanziamenti dei mutui quelli che state aspettando magari però vi dicono comunque di mantenere alte le difese di mantenervi allerta ok di non pensare neanche troppo al futuro di vedere le cose più nell'immediato andiamo a vedere questo 5 di bastoni voglio andare a vedere anche la regina di coppia allora per il 5 di bastoni abbiamo un asso di coppia un matto per la regina di coppia abbiamo un re di bastoni e un 6 di spade allora potrebbero esserci qui vediamo questo nuovo inizio che voi volete no ragazzi se fosse quella questione di coppia di cui parlavo prima e ci fossero dei soldi da mettere per un nuovo progetto magari di coppia tutelatevi bene se differentemente il 2 di coppa e la relazione tra cugini vi ho già spiegato però qui avevo fatto un accenno alla coppia perché comunque era venuto fuori un 2 di coppe ed effettivamente comunque abbiamo delle figure quindi a qualcuno magari può risuonare così comunque sta di fatto è come se ci fossero delle difficoltà a far partire questo sogno a concretizzare questo sogno vi dirò la giustizia c'è ma c'è anche il 5 di bastoni come se appunto ci fossero dei conflitti per delle cose di poco conto per questo nuovo progetto per questa nuova idea vi dico qui si tratta di allontanarsi un po dalle vecchie idee di pensiero dalle dalle vecchie forme di comportamento vi ricordo che qua dovevate tagliare il karma cioè è come se con i dieci di bastoni iniziasse a dire queste non sono le cose che voglio io non è quello che voglio io questo è un tuo desiderio e da lì cambiate il modo di comportarvi magari nei confronti di questa persona magari nei confronti del mondo esterno in generale e quindi è come se dovesse ricominciare magari un nuovo progetto e per qualcuno ripeto può risuonare in tanti modi cercate di adattarlo voi alla vostra realtà però fatemelo sapere nei commenti perché è interessante poi leggervi vi dico ci sono cambi ci sono per destino vi dirò si tratta di anche lasciarsi fluire un po no mi viene da dire perché qui con questa regina di coppe al contrario sembra che qua in questa zona le emozioni siano un po contratte nella seconda settimana nella seconda parte di dicembre diciamo verso la fine di dicembre ma io credo che molte cose c'è molte di queste emozioni contratte siano a causa di qualche questione del passato che ritorno a galla soprattutto per qualcuno a livello familiare di madre di eredità con cugini cose di questo genere va bene andiamo a vedere ancora un oracolo di questi e poi una fatina la freccia di cupido guardate anche qui parla di coraggio e rimetto la carta della forza chissà perché ho detto la ruota della fortuna ma comunque è un po come se avessi voluto dire abbiate fede che sta arrivando il cambio tanto aspettato l'amore sta arrivando c'è un invito a sorpresa o un incontro parla anche di esitazioni come se ci fosse qualche incontro dove ma vado non può essere anche un incontro tentatore magari nasce proprio tutto da lì e questa è addizione sarebbe dipendenze codipendenza ossessione possessione controllo blocchi e restringi restrizioni lo sento qui in realtà quella contrazione che vi dicevo è un po qui è come se foste attaccati a qualche discorso legato al passato a qualche pensiero legato al passato qui avete 67 9 di spade andiamo a vedere ancora una carta delle fatine inizio ecco ve lo metto qua sotto perché guardate abbiamo la ruota della fortuna l'asso di denari e anche se è comunque al contrario abbiamo un asso di coppe e il matto quindi vi dico si parla di un cambio ben profondo secondo me è un nuovo inizio diciamo che avete da lavorare sul vostro amor proprio credere in voi stessi credere che ce la possiate fare perché se non credete voi in voi stessi se non siamo noi primi che crediamo in noi stessi come convinciamo gli altri che il progetto funzioni che ce la facciamo e via dicendo bene amici del capricorno questo è quello che avevo per voi spero che la lettura vi sia stata utile fatemelo sapere con un commento con un like con la vostra iscrizione con la condivisione del video se avete piacere potete abbonarvi al canale io e gli angioletti vi auguriamo un felice natale spero che possiate passarlo veramente in serenità e con i vostri cari vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao